Il 22 gennaio prossimo ad ESAC a formazione si parlerà della nuova legge regionale sulla panificazione, una conquista per il settore poiché finalmente distingue il pane fresco dal surgelato. Ne parliamo con Alberto Morato, presidente dell'Associazione Provinciale Panificatori di Confcommercio. Il convegno verte sulla nuova legge regionale che è stata emanata sulla panificazione. Le novità sono importanti perché fanno chiarezza in un mercato che probabilmente di chiarezza ne aveva poca. L'argomento principale è il pane surgelato, per cui si parlerà di questo, in quanto ci sono delle nuove regole che dovranno essere rispettate, per cui chi si avvicina a questo mercato avrà ben chiaro cosa può fare e cosa non può fare. Inoltre c'è un aspetto importante per quanto riguarda la qualificazione dell'impresa di panificazione, poiché ci sono nuovi soggetti che si apprestano a iniziare questa nuova attività, anche questi nuovi soggetti dovranno essere qualificati, per cui non potrà più esserci chi si sveglia la mattina e si inventa di fare il panificatore. Questo è una freccia nel nostro arco, anche se comporterà magari in futuro degli obblighi ai quali dovremmo sottostare, però se non altro qualifica la nostra professione e rende l'ingresso dei nuovi un po' più articolato e con delle regole da rispettare.